aso spade la scarpa da freestyle con un nuovo look lo studio di quelli che sono i look lo facciamo insieme a tutti gli atleti che abbiamo in giro per il mondo particolarità questa specie di staffa serve per non far andare i pantaloni diciamo sotto abbiamo questo spoiler che ti permette di inclinare la scarpa e di così customizzarla un attimo più dritta versione più dritta o versione 45 gradi più avanti leva a 45 gradi e all'interno una scarpetta diciamo un fit molto anatomico e l'inserzione specialmente in punta e sul tallone di quello che è una sorta di silicone che ci permette di assorbire gli urti e i colpi durante i salti